Quindi siamo pronti, iniziamo questo pomeriggio con un'onore. Il Presidente del Giudice, che giudicherà il 2 novembre, la signora Barbara Zanieri Corsini, che accogliamo con il nostro grande applauso e che ringraziamo. Prego, barbini, dai 6 agli 11 anni potete entrare. Con il nostro progetto, applausi, applausi. Tra l'altro vedrete con quale grande professionalità è il nostro progetto. Il gruppo Sinopilo di Tremona ha messo a loro disposizione delle medaglie, tutti saranno premiati, i primi sei saranno comunque messi nell'albo di questo circuito per i giugnorenzi. Il giugnorenzo è una cosa da santa sede, poi il vincitore arriverà ad andare nella più grande esposizione canina d'Europa, che è Cranco. Allora vediamo questa piccola ragazza con il suo levier afgano, signori però vi ripeto, applausi perché sono piccolissimi dai 6 agli 11 anni e credo che il loro cuoricino basta molto forte in questo momento. Questa ragazza con il suo flat coated, poi vi diremo anche i nomi quando presenteremo i premi. Vedete la professionalità che vi dicevo prima, guardate come gira, come porta il vincaglio. Io lo ripeto sempre, a volte veramente molto meglio degli adulti. Dopo questi piccoli ragazzi prego gli altri un po' più grandi di presentarsi nel pre-ring, vedo c'è qualcuno. La piccola con il suo bastotto, un'altra piccola con il suo Norwich. Vedete, bravissima, lo fa girare, vedete con la mano lo stenge. E terminiamo, bravi, tutti applausi, a tutti però, non un po' sì e un po' no. Ora il giudice dubbiamente vi farà muovere, vi farà fare un giro, dopodiché ci metteremo comunque tutti. Ebrahava, Barbara, tutti i nostri applausi, bravissima. Andè, andè, vieni, segui, segui, segui. Ecco, fermatevi di nuovo. Ho arrivato, signora Corsini mi scusi, ma è arrivata un po' in ritardo, ma noi la cogliamo lo stesso. La piccola. Vieni, vieni verso di me, brava. Torna indietro. Ecco qua. Li tiriamo fuori tutti perché tutti saranno premiati. E poi, come vi dicevo prima, dovremmo sapere veramente in graduatoria tutti i primi sei. E una medaglia va a tutti, i nostri applausi anche. Guardate, guardate come lo sa tenere, guardate come sono bravi, eh? Porta. Applaudiamoli, allora. Bravissima, anche tu con il tuo scatto, bravissimi, tutti bravissimi. E poi non so se notate, ma sono tutte donnine, eh? Non c'è un maschietto. Ma guardate, stanno la mano al giudice, veramente meglio degli adulti, credetemi. Sì, veramente meglio di tanti adulti. Ecco qua. Bravissimi, bravissimi davvero. E ora tiriamo fuori, ma sono tutti vincitori. Attenta! I primi sei. Sesto posto, Norwich. E la signora prenderà il nome di questa piccola bimba. Al quinto posto, la bimba col bastotto. Al quarto posto, il cane nudo. Al terzo, la bimba col piccolo spizzo. Secondo, la bimba col suo piccolissimo cane. E' la prima di cui guarda la felicità. Guardate la felicità. Brava, bravissima. Le foto di Rito. Che carini, guardate. Sono i futuri campioni, anche loro. Da adulti, chissà. Comunque è una professione importante. Visto che il lavoro è poco, devo dire che se imparano bene, è una grande professione.